Tre anni dopo il coraggio di Angela, Sara Cogni si ripropone sulla stesso palcoscenico dell'edizione del Salone del Libro di Montagna con La Signora dei Gabbiani. Tre anni dopo, una Sara Cogni più matura, una Sara Cogni che ci racconta qualcosa di lei. Io sono un'insegnante da una ventina d'anni, lavoro con i bambini della scuola dell'infanzia e ho iniziato però questa avventura. Ho iniziato a scrivere pensando che il mio libro sarebbe rimasto nel mio scaffale a impolverarsi negli anni. In realtà sono stata molto fortunata, la mia strada si è incontrata con quella dell'Araba Fenice che mi ha pubblicato e adesso sono già il terzo romanzo più un libro di racconti di Natale. Quindi direi che mi posso ritenere molto fortunata e anche perché il riscontro presso le persone che leggono i miei romanzi è sempre molto positivi e mi dà proprio la voglia di andare avanti.